Musica Regista e produttrice raggirati da un promotore finanziario perdono denaro e immobili sequestrato il patrimonio sottratto e denunciate quattro persone Sono stabili le condizioni cliniche del Vescovo di Fano positivo al coronavirus ha sintomi lievi e sta affrontando con fiducia al decorso del covid ha seguito dai medici anche il segretario Don Luca Santini Non solo covid ma ha interrotta l'attività nel reparto di chirurgia dell'azienda ospedaliera Marche Nord i dati e il punto con il primario Alberto Patriti, i medici e gli infermieri al San Salvatore di Pesaro Pulizia degli Alvei, manutenzione del verde e argini più alti di 50 centimetri l'assessore regionale Stefano Guzzi annuncia gli interventi sul fiume Metauro per diminuire il rischio idraulico Fano sempre più smart, nuovi totemi informativi nelle aree di sosta blu triplicati, pagamenti dei parcheggi con un clic sul cellulare 6 appuntamenti, tutti da ridere per la settimana grassa del carnevale di Fano a partire da domani fino a 16 febbraio in esclusiva su Fano TV Buonasera e bentornati sul canale 17 per una nuova edizione di Occhio alla Notizia in apertura la cronaca con la vicenda che riguarda una coppia del pesarese raggirata da un quarantenne romano che al posto di aiutarli a risanare il patrimonio li avrebbe truffati Due coniugi, lui regista, sceneggiatore, scrittore, le produttrice e televisiva entrambi del pesarese sarebbero stati raggirati da un quarantenne romano sedicente consulente che avrebbe dovuto aiutarli a risanare la loro situazione economica compromessa a causa dei debiti accumulati con le banche Marito e moglie, titolari di un patrimonio di tutto rispetto avevano affidato all'uomo la gestione delle proprietà e la delega operare sui conti correnti bancari In breve tempo, quindi, consapevole di aver acquistato la fiducia e l'affetto dei coniugi il quarantenne li avrebbe indotti dal 2017 ad effettuare operazioni immobiliari tra cui la vendita di un prestigioso appartamento romano al di sotto del valore di mercato trattenendo la quota residua e il provento della vendita degli arredi di pregio come statue, quadri e basso rilievi di marmo Nel patrimonio, convertito in parte in lingotti d'oro dopo un suo suggerimento c'erano anche quote di società con complessi alberghieri immobiliari sitati nella provincia di Pesero Urbino Insospettiti dall'atteggiamento del consulente che non mostrava i documenti delle operazioni e soprattutto dei lingotti i due artisti hanno deciso di controllare i movimenti dei conti bancari scoprendo di essere stati depredati non solo della liquidità ma di gran parte delle proprietà Così hanno sporto querela contro l'uomo che nel frattempo si era dileguato l'indagine è stata eseguita dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziare di Pesero coordinati dal pubblico ministero Maria Bice Barborini della procura di Roma La vicenda infatti si colloca nella capitale dove per una vita i due coniugi hanno calcato le scene e dove sono stati sottoscritti i vari contratti per le operazioni incriminate Gli investigatori ipotizzano i reati di truffa e appropriazione in debita carico del quarantenne insieme alla moglie, alla sorella e a un terzo uomo Su richiesta del PM il Tribunale di Roma ha emesso un decreto con il quale sono state sequestrate le quote della società immobiliare un'auto di lusso comprata con i soldi prelevati dalla coppia conti correnti e una cassetta di sicurezza bancaria tutto ciò al fine di rimettere i beni nella disponibilità dei coniugi raggirati E la positività al coronavirus del Vescovo di Fanno Fossombrone e Cagli Pergola Monsignor Armando Trasarti ha fatto scattare il piano di quarantena fra le persone che sono venute in contatto con l'alto prelato L'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali informa che Trasarti sta affrontando con serena fiducia il decorso del Covid nel Palazzo Vescovile La situazione clinica è stabile senza cambiamenti degni di nota Il suo segretario Don Luca Santini invece sta affrontando il virus stando a casa seguito dai medici e attendendosi ai protocolli La situazione sta andando verso un decorso positivo Le quattro suore che vivono nell'episcopio così come i preti che soggiornano nella casa del clero sono negativi al tampone Nessun altro prete, parroco e personale degli uffici è contagiato in quarantena Gli uffici della Curia quindi sono aperti e si attengono con scrupolo all'enorme anticontagio La celebrazione della giornata del malato domani 11 febbraio prosegue la notta ci vedrà ancor più impegnati nel pregare e nell'affrontare con maturità questo tempo che consideriamo sempre e comunque nelle mani di Dio e quindi capace di offrirci la possibilità di essere migliori mettendo al centro la persona e non il profitto il prendersi cura e non l'indifferenza E sono nove i decessi legati al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le vittime e anche un'anziana di 91 anni residente ad Acqualagna I nuovi positivi sono 421 di cui 83 in provincia di Pesero Orbino I ricoverati per Covid sono 606, meno 10 rispetto a ieri I pazienti in terapia intensiva sono 72 mentre quelli in semi intensiva 157 Negli ospedali però non si continua a fronteggiare soltanto il Covid perché ci sono anche altre patologie Oggi siamo stati nel reparto di chirurgia dell'ospedale San Salvatore di Pesero dove l'attività non si è mai fermata C'è il coronavirus ma anche i tumori e le altre malattie di diversa gravità e natura ciascuna con il suo decorso non meno importanti del Covid-19 Da qui il rischio che l'emergenza in atto monopolizzi l'attenzione collettiva a discapito delle diverse patologie con le quali dovremo fare i conti anche quando l'epidemia sarà soltanto un ricordo Con le nostre telecamere oggi siamo entrati nel reparto di chirurgia dell'azienda ospedaliera Marche Nord dove prosegue incessantemente l'attività sotto la guida del primario Alberto Patriti Abbiamo avuto nel 2019 qua facevamo 2018 interventi all'anno circa a Pesaro e a Fano 1800 circa e abbiamo avuto un calo di 600 interventi a Pesaro e di 800 interventi a Fano ma che sono nulla rispetto a molti altri ospedali abbiamo fatto degli studi scientifici che ci sono stati pubblicati sono stati tra i primi nel mondo occidentale che hanno messo in evidenza come il Covid vada ad impattare negativamente sul trattamento delle altre patologie Noi abbiamo fatto degli studi sulle emergenze chirurgiche e sul trattamento dei tumori del coloretto e abbiamo visto come già nei primi mesi dell'inizio della pandemia le urgenze chirurgiche erano calate del 60% Questo sta a significare che molte persone per paura rimanevano a casa precisa il dottore e il timore di recarsi in ospedale ha provocato ulteriori danni alla salute aggravando le patologie buoni invece sono i dati che arrivano dalla struttura semplice di chirurgia del coloretto fiore all'occhiello di Marche Nord ed eccellenza a livello nazionale Noi abbiamo discusso nel 2019 174 casi di tumore del colon retto divisi in 122 del colon 46 del retto e 6 dell'ano che sono rimasti identici nel 2020 pur avendo due mesi circa in meno di tempo materiale di lavoro perché era il periodo Covid in cui ci siamo spostati all'ospedale di Fano dove abbiamo continuato a fare tumori ma come diceva il dottor Patriti prima molta gente per paura di venire in ospedale si teneva il tumore a caso addirittura se chiamati dalle nostre strutture preferivano ritardare di uno o due mesi piuttosto che venire in ospedale anche nel 2020 abbiamo fatto 48 tumori del retto e 6 tumori dell'ano che vuol dire un lavoro molto importante perché è un lavoro multidisciplinare infatti prosegue Corinaldisi non coinvolge solo il chirurgo ma anche l'oncologo e il radioterapista messo comunque a dura prova dalla pandemia il sistema sanitario ha dovuto rapidamente e drasticamente riorganizzare le proprie attività per garantire le migliori cure a tutti i pazienti evitando il rischio di contagio massima infatti è la sicurezza sia all'interno dei reparti che nel blocco operatorio ad illustrarci le procedure questa mattina sono stati i coordinatori infermieristici Romina, Raffaele e Nadia Di Giovanni il superlavoro dei sanitari prosegue anche al Santa Croce di Fano dove è ripresa l'attività in desergeri i codici anche per il desergeri erano sempre evasi mi riferisco a tumori cutanei, melanomi quell'attività non si è mai fermata come quella oncologica qui a Pesaro quelle sono attività che sono andate avanti in continuazione ma adesso possiamo dire con orgoglio che abbiamo ricominciato anche a operare la patologia benigna in desergeri a Fano quindi mi riferisco alle ernie, le varici patologia benigna dei Tegumenti lo diciamo con orgoglio perché ha rappresentato un grosso sforzo organizzativo per poter ripartire Serie di incidenti oggi a Fano nel primo che si è verificato alle 9.30 sono rimasti coinvolti una Smart condotta da un fanese di 76 anni e uno scooter guidato da un pesarese di 51 l'uomo a bordo dell'auto proveniva da Via dell'Arzilla si stava immettendo in Viale Primo Maggio per dirigersi verso Pesaro mentre il Centauro si trovava già sulla statale si tratterebbe di una mancata precedenza e nonostante entrambi viaggiassero a velocità moderata non sono riusciti ad evitare l'impatto il Centauro è stato trasportato al pronto soccorso di Fano con lesioni non gravi alle 10.30 invece una ciclista di 81 anni è stata investita da una Volkswagen Fox nella rotatore del Vallato a bordo dell'auto c'era un 75enne fanese che nell'immettersi nella rotonda non si è accorto dell'anziana che la stava già percorrendo in sella alle due ruote la donna è stata prima soccorsa da un medico di passaggio e poi dal 118 che l'ha trasportata al Santa Croce il terzo sinistro è accaduto in Via Vampa a Bellocchi un operaio di 36 anni stava uscendo col furgoncino da un passo privato di una ditta e nello svoltare a sinistra verso Via Inaudi ha urtato una lancia Y guidata da una cinquantenne a causa dell'impatto la Y è finita contro un muretto anche in questo caso la donna è stata portata in ospedale in tutti gli incidenti intervenuta la polizia locale di Fano per rilievi di legge Cambiamo argomento l'assessore regionale Stefano Guzzi ha presentato i lavori di pulizia e di sistemazione del fiume Metauro che partiranno nel prossimo inverno per ridurre il servizio idraulico sentiamo tutti i particolari nel servizio che è stato curato da Letizia Marchionni Presentati questa mattina gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico e la manutenzione del fiume Metauro la regione Marche assieme al comune di Fano come annunciato dall'assessore regionale per la tutela del territorio Stefano Guzzi alla presenza del sindaco di Fano Massimo Seri e dell'assessore all'ambiente Barbara Brunori interverrà attraverso l'ufficio tutela del territorio di Pesaro e Urbino focalizzandosi secondo il piano d'azione sul tratto terminale del fiume Metauro compreso tra la foce a mare e il viadotto autostradale a 14 per oltre 2 km la regione Marche ha in atto una progettazione del valore di circa 900.000 euro ha spiegato Aguzzi il progetto definitivo sarà pronto per maggio 2021 la procedura di gara d'appalto che sarà impostata dalla regione attraverso l'ex genio civile sarà avviata ad ottobre mentre l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo inverno desidero inoltre ha continuato l'assessore regionale rimarcare la volontà di collaborare con il territorio e in questo caso con l'amministrazione comunale di Fano questi interventi di mattina li abbiamo chiariti esplicitati sono un rafforzamento di tutti gli argini un innalzamento anche in parte degli argini là dove sono più a rischio la messa in sicurezza tramite anche proprio l'installazione di reti che impediscono diciamo agli animali di creare furi o così dissesto all'interno di questi argini delle golene poi anche una pulizia complessiva dell'alveo compatibile con una tutela ambientale ovviamente delle specie che lì vivono e vegetano però che in qualche modo garantiscono anche un maggior flusso delle acque diciamo così garantendo minor trasporto di detriti minor ammassamenti a ridosso dei ponti del fiume dei ponti che attraversano la statale e anche la ferrovia quindi una manutenzione complessiva che mira soprattutto la prevenzione prima di correre magari in soccorso di chi invece ha avuto un qualche problema un qualche danno una serie di interventi che nascono da un confronto ho incontrato i cittadini di Tombaccia ha spiegato l'assessore Barbara Brunori con cui ho fatto un sopralluogo sul letto del fiume Metauro assieme a dei tecnici della regione la loro esigenza era proprio di verificare quello che era stato l'ultimo intervento che non era era stato incompiuto in alcune parti e in quell'occasione abbiamo proprio scoperto questo progetto significativo di 896 mila euro che è stato stanziato dal ministero dell'ambiente e mi sembrava giusto raccontarlo proprio per rassicurarli oltre a questo intervento ci sono altri tre interventi che la regione praticamente ha stanziato e quindi che verranno fatti l'obiettivo dell'amministrazione è quello di presidiare con una manutenzione di carattere ordinario sul metauro che non sia solo su questo primo tratto della foce ma diffusa perché poi il metauro riguarda un'intera vallata e si torna a parlare della complanare Fano Pesaro un progetto caduto nel dimenticatoio secondo i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che denunciano la negligenza della giunta serie il vice sindaco Fanesi replica i grillini hanno preso un abbaglio la complanare Fano Pesaro un progetto caduto nel dimenticatoio secondo i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Fano che dopo aver rispolverato i documenti di 15 anni fa denunciano la negligenza della giunta serie abbiamo scoperto che nel 2006 per dare l'autorizzazione della terza corsia dell'autostrada spiega il consigliere comunale Tommaso Mazzanti il comune di Fano aveva fatto delle prescrizioni aveva chiesto delle condizioni precise tra queste vi erano le bretelle che sono state recentemente ultimate il casello di Fano Nord poi bocciato dalla sovrintendenza e dal Tar ma c'era soprattutto una complanare di collegamento tra Fano e Pesaro in consiglio comunale abbiamo portato questi temi abbiamo ricevuto dal vice sindaco Fanesi e dall'amministrazione delle risposte molto imprecise ci hanno risposto con dei non credo non penso come siamo stati precisi noi ci saremmo aspettati altrettanta preparazione altrettanta precisione da parte di chi appunto era chiamato a risponderci noi non sappiamo se in questi quattro anni non si è più parlato di complanare ma ci si è concentrati sulla chimera forse del casellino per negligenza per incapacità di questa amministrazione oppure se abbiano volutamente finora taciuto una parte della verità che abbiamo scoperto sicuramente ecco il nostro impegno d'ora in poi sarà quello di capire per quale motivo questo impegno sulla complanare sia passato in secondo piano e sia appunto caduto nel nel dimenticatoio abbiamo anche saputo che da parte di società autostrade ci sono ancora 14 milioni come obbligo monetario da corrispondere nei confronti del comune di Fano qualora non si facesse il casellino a nostro avviso unendosi ai 20 milioni già arrivati dallo Stato dal CIP si dovrebbero utilizzare appunto per una complanare che finalmente crei quella circonvallazione tra Fano e Pesaro che il nostro territorio si aspetta e auspica ormai da molti anni a replicare i 5 stelle è il vice sindaco Cristian Fanesi il quale fa chiarezza sulla questione emersa durante lo scorso consiglio comunale io credo che il movimento 5 stelle abbia preso un abbaglio nel senso che ha riportato sì un documento valido perché è un documento del 2006 quindi di 14 anni fa che però non tiene conto di tutto quello che è successo nel frattempo tra l'altro basta cercare bene degli archivi del comune per trovare una delibera del consiglio comunale del 2010 già nel 2010 il comune di Fano aveva cambiato idea con una delibera di consiglio comunale in cui era presente anche il movimento bene comune che poi è confluito nel 5 stelle e all'unanimità si era votato appunto per abbandonare questa opera complanare e per sposare invece la teoria di realizzare un casello a Fano nord e un casello a Pesaro sud per permettere il collegamento veloce fra l'altro diciamo anche in questo consiglio comunale nel 2010 ci fu un'approvazione rara devo dire in consiglio comunale all'unanimità a favore di queste opere presentate all'epoca quindi senza complanare e tra l'altro molti consiglieri anche il consigliere Benini dice esposa questa tesi e anzi dice io sono sempre stato e continuo ad essere assolutamente contrario alla complanare Fano Pesaro perché quella sarebbe veramente una devastazione del territorio e la tecnologia che facilita sempre più la vita dei cittadini a Fano dai giorni scorsi sono presenti dei cartelli informativi che promuovono l'utilizzo delle applicazioni per pagare la sosta nei parcheggi della città la città della fortuna come smart city è all'avanguardia Fano diventa una città sempre più intelligente grazie agli strumenti tecnologici che semplificano la vita dei cittadini come MyCicero ed EasyPark due app per smartphone utili per il pagamento della sosta dai primi di febbraio sono presenti a fianco dei parchimetri dei totemi informativi che promuovono l'utilizzo di queste applicazioni con l'obiettivo come ribadiscono ASET e l'amministrazione comunale fanese di sensibilizzare il pagamento della sosta negli stalli blu tramite smartphone i benefici sono molteplici ha commentato il presidente di ASET Paolo Reginelli e vanno dalla maggior convenienza per il cittadino ad una maggior sicurezza ed igiene in quanto non si ha nessun genere di contatto né con tastiere né con denaro monete sottraendo così gli utenti al rischio di contrarre il covid a cosa servono queste app servono facilitarci la vita semplicemente perché intanto non abbiamo bisogno degli spicci delle monete abbiamo la certezza di pagare esattamente quello di cui dello spazio che utilizziamo il tempo che utilizziamo perché connettendosi con un cellulare cosa che ormai ognuno di noi ha si riesce a impostare sia la data d'arrivo l'ora d'arrivo che l'ora di partenza e può essere anche integrata ad esempio nel caso in cui ci si soffermi un po' di più per un appuntamento o altro semplicemente dal telefonino si può allungare il periodo di parcheggio come si può ridurre se ad esempio abbiamo un appuntamento che riusciamo a sbrigare prima del previsto attivo dal 2019 questo servizio digitale ha visto nel corso di quest'anno una crescita costante dei fruitori anche grazie alla maggiore alfabetizzazione digitale portata dalla pandemia nel secondo semestre del 2019 le transazioni emesse dalle app Maicicero ed Isipark sono passate da 5.700 alle oltre 16.000 operazioni nel 2020 hanno una dimensione una un po' più locale locale diciamo così nazionale perché Maicicero si è sviluppata specialmente nel centro Italia e possiamo trovare anche quando si va in altre città del centro Italia mentre invece Isipark è un'app che ha un'utilità internazionale perché possiamo trovare la stessa modalità anche in altre nazioni addirittura riteniamo che sia estremamente agile anche per i giovani soprattutto ma anche per chi lavora per chi non ha tempo da perdere e ha bisogno di un servizio efficiente e veloce si possa intavolare un rapporto più sano con gli utenti dove gli utenti finalmente pagano solo ed esclusivamente lo spazio e il tempo che utilizzano A partire da domani sui canali social dell'evento in esclusiva sul canale 17 di Fano TV sei appuntamenti tutti da ridere per la settimana grassa del Carnevale di Fano il servizio di Filippo Pucci è tutto pronto per domani giovedì grasso 11 febbraio l'ente carnevalesca tutte le sere alle ore 21 trasmetterà in esclusiva sul canale 17 di Fano TV e sui canali social sei appuntamenti tutti da ridere e incentrati sul Carnevale di Fano che quest'anno per ovvi motivi non si è potuto svolgere tutti appuntamenti non in presenza ma che vogliono in qualche modo ricordare la manifestazione più importante e divertente dell'anno partenza dell'evento davanti al municipio fanese alle 16.30 dove ci troveremo di fronte al comune per l'alza bandiera e l'apertura ufficiale del Carnevale insieme al sindaco del Carnevale al nostro sindaco e alla musica ravita che debitamente distanziata accompagnerà questo momento ufficiale l'evento poi proseguirà subito dopo alle ore 21 con l'apertura ufficiale dove il sindaco Seri consegnerà la fascia tricolore al nuovo sindaco del Carnevale che quest'anno sarà Dante Alighieri ci sarà poi il consiglio dei bambini e delle bambine il consiglio comunale del Carnevale che quest'anno è proprio uno spettacolo scritto ad hoc da questo giovane sceneggiatore Luca Tazzari in versi ma molto comico venerdì spazio alla musica house ed elettronica con l'esibizione del DJ Joe Tivannelli direttamente dal Teatro della Fortuna mentre sabato sarà l'orchestra sinfonica Rossini a regalare le loro note musicali con brani dedicati al tema di quest'anno per il gran concerto di Carnevale domenica ci spostiamo a Gradara nella stanza di Paolo e Francesca dove verrà rappresentato il quinto canto dell'inferno tradotto in dialetto fanese da Paola Maggi e Maurizio Misuriello e abbiamo una collaborazione con Gradara che sta anche lavorando su un carro di seconda categoria appunto dedicato a Paolo e Francesca poi lunedì ci sarà sempre dalla piazza della fabbrica del Carnevale la recitazione sempre in dialetto fanese tradotta magistralmente da Paola Maggi sul ventunesimo canto che è quello che dà il titolo al Carnevale che è l'ultimo in decasillabo e dellì aveva il cul fatto trombetta quindi sarà un po' un canto tutto da ridere perché è probabilmente il canto più comico di tutta la Divina Commedia Gran finale invece martedì grasso 16 febbraio con la riconsegna della fascia tricolore al sindaco di Fano e il tradizionale momento del rogo del pupo che chiuderà tutti i festeggiamenti dedicati al Carnevale e dando così il via al tempo di Quaresima e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi una nuova puntata dei dolci di Carnevale seguiranno l'integrale delle interviste che abbiamo realizzato questa mattina nel reparto di chirurgia dell'azienda ospedaliera Marche Nord e la giornata del ricordo celebrata in consiglio regionale buona serata a tutti voi e arrivederci a domani a domani a domani a domani